Buongiorno ragazzi, allora la prima tappa è Quezon Province Questa notte dormiremo in un posto dove c'è il Baha'i Kubo Quindi una casa di bambù sulla spiaggia e possiamo dormire qua Abbiamo pagato solo 600 pesos in due, quindi un posto veramente economico 650 650, va bene, un euro in più, un euro in meno Devo riuscire a passare, solo la strada non è la migliore Non è una bellissima strada, però ce la faremo Ecco, siamo entrati, adesso andiamo a vedere come è questo posto che costa solo il 650 peso Sono circa le 4, questo è un posto, ci sono una casetta qui e lì Ci sono dei campi di qualcosa, di riso, così E poi c'è questo posto qua, adesso andiamo a vedere se è esattamente sulla spiaggia o no Comunque è bellissimo, guardate qua Lì il paesaggio filippini Ah queste qua sono le casette, eccoli qua Ma che belle, aspetta che le faccio vedere così Che belle, noi abbiamo una di queste casette, guardate il gallo Il gallo Guarda, ci sono i dipinti Ah guarda, ci sono i dipinti Ora scendiamo e vediamo Tarsi Tarsi, pappagallo, squalo balena, tartaruga Altri pappagalli, tamarri, va bene Ora andiamo Ecco qua l'entrata, qui c'è un cagnolino Che bello Ciao, ciao, come sei? Sono bene e tu? Sono bene, dove sei? Cosa sei? Francia De la Francia? Io sono d'Italia Ah ok Ma qui è il caglio? Questo è il caglio è il vostro? Sì, sì, sì Ma in Italia, dove è la città? Milano Non da Milano Ma io vivo qui in Caglantia 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 Ciao Ciao Cagliare francese? No Ah, io parlo francese con lui, ma non capisce, ma non è mai in francese Ah, come il mio Tagalog Ah, è difficile, il Tagalog Cagliare Quanto stai vivendo qui? 5 anni dopo il Decembre Oh, è la stessa di lui Ah, sì? Sì, sì Ho usato questo in novembre Ah, sì Un anno prima la pandemia, siamo arrivati qui E tu stai iniziare il restaurant prima la pandemia? Sì, prima la pandemia Sì, prima, prima Sì, sì È una grande stessa in questo momento For me, oh, mio Dio Cosa faccio? Cosa faccio? Ho perduto tutto il mio lavoro in fronte per vivere qui C'è la pandemia C'è la mia stessa? Ah, sì Tu stai iniziare questo già? Prima la pandemia? Siamo iniziare in settembre 2019 Oh, sì E la pandemia è in marzo Oh, sì E la pandemia è in marzo In marzo 2020 Sì È già iniziare? Sì, sì 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 Questo è il posto, guardate qua, un paradiso Sì 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 Allora in questo momento ci stanno preparando la camera, questo posto è bellissimo comunque molto tranquillo, quindi dormiremo sicuramente bene, qui hanno le angurie, che belle che stanno crescendo così Ah, questo è come piantano le angurie, vedete? C'è la pianta per non farla andare direttamente sul suolo, non è sul legno, così cresce direttamente sul legno Invece andando di qua, c'è questa meravigliosa fontana, vedete? Allora la camera è pronta, andiamo subito a vederla Mi aspettavo di trovare un posto un po' bruttino, ma in realtà è bellissimo Guarda qua, hanno fatto i gradini, il passaggio, un po' di veleno prima di entrare Forse aspettiamo, allora la casetta è così Ah questa è quella da 600 pesos, giusto? Sì Sennò hanno quella dove addirittura hanno la stanza sopra e sotto Bella Allora il posto è così, adesso vi faccio vedere bene la camera Questa qua è la camera con un ventilatore, quindi non c'è aria condizionata Ma qui non serve più di tanto perché comunque non c'è quel caldo a foso Almeno oggi perché ha piovuto Quindi c'è la luce e... Aspettate che accendo la luce, dov'è? Ecco qua, questa qua è la luce E questa è la bahai cubo perché è fatta di bambù E queste invece sono foglie di anahau Che è una pianta che è molto diffusa nel sud-est asiatico Vedete, è rialzata in questo modo E poi il bagno, il bagno qui è in comune Per quanto riguarda queste camere Poi per quelle là non lo so, non so neanche i prezzi di quelle là E vediamo questo qua il bagno In comune, comunque molto carino anche questo Vedete, è fatto bene C'è il bagno e la doccia La doccia fredda Quindi tipica doccia filippina col secchio e il tab Qui è questo qua il posto, molto carino, molto pulito Soprattutto, ed è vicino alla spiaggia Circa cinque minuti Quindi dopo andiamo a fare un salto anche da quelle parti Se abbiamo il tempo Allora adesso noi abbiamo trovato la strada per la spiaggia Che ci sta facendo vedere il proprietario di questo posto Così andiamo a vedere anche la spiaggia di questo posto Quando andiamo qui E vedete che la strada è dove ha tutti i bambini Ok E andiamo per 4 minuti E hai l'attenzione È sempre molto bene Ok Ok, grazie Grazie Sì, per questo dobbiamo andare sulla strada Via, via Che bella qua Sì, la strada te l'ha detto La strada, proprio la strada Pensavo che dobbiamo attraversare la No Che carino questo posto Sì, è molto bello È un paradiso, guarda Poi ci sono degli uccelli incredibili Tutti colorati Anche dei grandi pappagalli Non so, uccelli con il becco grande Ci sono uccelli incredibili Che adesso con la telecamera non posso riprendere Se avessi una macchina fotografica Poi ci sono tanti fiori No? Ci sono i fiori No, qua no Però prima c'era No, qui là all'ingresso Quando siamo arrivati C'erano i fiori nella strada Sì, c'è un gran profumato Sono sempre che sono molto curati Sì, questo è un posto curato Pulito Soprattutto non ci sono plastiche Si vede che ci sono pochi umani qua Guardate la mucca Il vitellino che carino Sì Lo vedi? Ciao Vai là Il loro figlio Sembra un cane Siamo quasi arrivati Lei è velocissima quando C'è qualcosa che vuole vedere subito Io con queste ciabatte non sono molto agile Come lei Forse perché le ciabatte Le mie ciabatte è ancora più scomode Le ciabatte sono grandi Sarà per quello Ecco qua Eccoci Questo è un parcheggio di moto O macchine Questa è l'entrata Si paga? Si paga vero? Ha detto il tipo Sì si paga Quanto? 18? No, 80 pesos 80 pesos Bravi Non c'è nessuno Quindi non si paga Gratis Amo Gratis Una bella parola Questa è la spiaggia Questa è la spiaggia Il massimo però Cosa ci ha detto il signore francese Che se prendi una barca Qua ci sono le barche che ti portano nelle isole Qua vicino Si ci sono queste isole dove c'è la spiaggia proprio in mezzo al mare tutto bianco Ah ok E siamo solo E' qua vicino Una di queste Adesso qua non si vedono le isole Vediamo Cosa fai? I just stay here Com'è calda? Si calda In quest'ora è il perfetto Orario A quest'ora è calda l'acqua Vediamo Wow Melmosa Eccomi nella prima tappa che si chiama Pagbilau Quezon Province Allora abbiamo fatto circa 130 km da Taghetai Abbiamo guidato la macchina circa per tre ore E ci siamo fermati qua perché ormai è tardi Quindi questa notte dormiremo in questo campeggio dove ci sono delle bahai cubo bellissime A 650 pesos a notte proprio pochissimo E qui c'è questa spiaggia che possiamo dire che non è bellissima ma ci sono delle barche da prendere Che ti portano direttamente su delle isole paradisiache Con delle distese di sabbia in mezzo al mare Veramente bellissimo Ho visto solo le foto Noi non faremo tempo perché domani mattina già partiremo e andremo verso Bicol La seconda tappa di questo bellissimo viaggio Sicuramente torneremo qua perché il luogo dove dormiamo è veramente bello e molto economico Quindi questo è un posto bellissimo Lo vorremmo tornare qui perché appunto ci sono tante isole da scoprire qua in zona Ora purtroppo non abbiamo tempo e questa sera mangeremo qua e domani mattina ripartiremo Ciao